È stato eseguito dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza nell'Arettino il sequestro di beni per oltre 1,5 milioni di euro disposto dal procuratore distrettuale di Firenze e dal questore di Arezzo. Si tratta del primo sequestro di questo valore nel territorio aretino. I beni sequestrati costituiscono il capitale sociale di una società che ha sede ad Arezzo e dall'intero patrimonio aziendale composto da un appartamento, un veicolo e un immobile che si trova in centro città. La misura arriva in seguito alla vicenda giudiziaria del titolare di varie aziende nell'Arettino che è stato condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso per fatti commessi alla fine degli anni 90 che hanno visto il coinvolgimento anche di un clan camorristico. Le indagini hanno permesso di ricostruire l'intero patrimonio e di dimostrarne l'evidente sproporzione rispetto al reddito dichiarato. Il sequestro, misura prevista dal codice antimafia in questi casi, è il risultato di una complessa attività investigativa diretta dall'ufficio misure di prevenzione e contrasto ai patrimoni illeciti della procura della Repubblica di Firenze e condotta dal personale della divisione di polizia anticrimine della questura di Arezzo e del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Un'operazione che conferma come il territorio aretino non sia immune da infiltrazioni criminali di stampo mafioso.